Un clima preoccupante che si aggiunge al lungo elenco di atti di danneggiamento e violenze subiti da Fratelli d'Italia in questi ultimi mesi. Tramite un innesco rudimentale piazzato sulla porta dell'ingresso, sconosciuti hanno cercato di dare le fiamme l'altra notte la sede reatina di Fratelli d'Italia, che ospita anche la segreteria parlamentare del deputato questore Paolo Trancassini. Allertati dal fumo e dall'odore, alcuni vicini hanno contattato i vigili del fuoco e i carabinieri. L'innesco, come spiegano alcuni esponenti di Fratelli d'Italia, non ha prodotto gravi danni, solo molto fumo e la bruciatura delle guarnizioni e del rivestimento del portone blindato. Il principio d'incendio è stato domato dai pompieri. Per il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Matteo Carrozzoni, proseguono, dopo la scritta infamante sulla targa della sede, gli atti intimidatori in pieno stile anni 70 nei confronti del partito. Proseguiremo lavorare con determinazione a testa alta, senza lasciarci intimidire da simili gesti ignobili, afferma invece il deputato Paolo Trancassini. Esprime ferma condanna per il vile atto intimidatorio anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.